30 novembre 1603 ingaggiato uno dei locali per farci da guida lopez i soldati e io abbiamo lasciato la città prima dell'alba e giusto in tempo dal momento che subito dopo una terribile febbre ha iniziato a diffondersi nella popolazione lopez è convinto che il manufatto non si trovi in realtà all'interno della città ma nelle immediate vicinanze gli ho chiesto se non gli sembrasse ipocrita affidarsi per questa missione a gente così spregevole non disprezzarli ha detto più di quanto disprezzeresti questi molossi sono tutte creature di dio nostro signore esattamente come noi gli ho detto che ero sbalordito di sentirlo parlare così ma mi ha preso le mani e abbiamo pregato ho sentito la forza della sua fede penetrare dentro di me finché le catene del dubbio che avevo attorno al cuore si sono spezzate che avevo attorno al cuore non ho abbastanza spazio non ho abbastanza spazio shiki vuoi sentire una storia me la raccontava sempre mia madre mi piacerebbe molto hai notato le sorgenti disseminate per la città sai qual è il loro scopo no qual è un tempo avevamo una regina una donna vanitosa ordinò di scavare quei pozzi in modo da poter vedere sempre il suo riflesso in città un giorno si inginocchiò vicino a un pozzo da cui affiorò un pesce la regina si aderò le increspature dell'acqua avevano rovinato il suo riflesso la regina cercò di catturare il pesce ma scivolò cadde in acqua e scomparve scomparve durante la ricerca furono scoperte molte gallerie tra i pozzi ma la regina non fu mai trovata alcuni dicono che sia ancora laggiù a inseguire quel pesce grazie una storia grandiosa grazie una storia grandiosa grazie una storia grandiosa istaka del culto di kukulkan giura di unire le sue vesti a quelle di yutu discendente dei maya privo di una famiglia propria istaka vivrà con i genitori di yutu fino a quando non avranno costruito un loro focolare domestico yutu giura di unire le sue vesti a quelle di istaka gli darà prole numerosa che entrambi si impegneranno a crescere secondo i dettami tradizionali dei rispettivi popoli lasciamo la città alle prime luci dell'alba ed è un bene data la terribile malattia che si è propagata al suo interno cadaveri e moribondi riempiono le strade e avvelenano le acque in tanti dicono che si tratta di una punizione divina diario di adelantado peres le strade e avvelenano le? 24 novembre 1603 ho accompagnato Andrés López un gruppo di 12 soldati e due molossi attraverso la giungla le indicazioni che i gesuiti hanno fornito alla Trinità si sono rivelate ottime così non è stato difficile trovare la città segreta i nativi del luogo ci hanno accolto con diffidenza ma una volta ricevuti i nostri ricchi doni ci hanno permesso, seppur con reluttanza di entrare in città, ignari delle nostre reali intenzioni López ha cominciato a cercare il manufatto mentre noi teniamo occupati i loro capi a cercare il manufatto Sì, sì. Sì, sì. Dove essere il tempio che vedevo dal fiume. Sì, sì. Un Watz e un Shohen erano gemelli, fratellastri maggiori dei più famosi eroi gemelli maia. Invidiose di questi ultimi, le scimmie gemelle non facevano che barare durante le partite a palla, attaccandoli sempre con grande aggressività. In tutta risposta, gli eroi gemelli li attrassero in cima a un albero. L'albero però non smetteva mai di crescere, impedendo così a un Watz e un Shohen di scendere. Gli eroi gemelli li convinsero a usare le loro cinture per calarsi, ma era un trucco anche questo. Le cinture divennero code e i due gemelli più grandi si trasformarono definitivamente in scimmie. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza. Torna al primo specchio. Sembrano delle istruzioni di qualche tipo, ma non riesco a capire il resto. Devo essere arrivata al momento giusto. Sembra che i cultisti siano appena andati via. Torna al primo specchio. Solo chi è degno può evocare Kinnitsch Aau. Usate la sua luce per scacciare le ombre dai vostri cuori e dalla città stessa. Torna al primo specchio. 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 Notevoli. Deve essere qui che compiono i reti in onore del sole. Se cado in acqua non sopravvivrò a lungo. Non sopravvivrò. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Grazie a tutti. Shaka era un dio molto importante per i Maya. Aveva insegnato al popolo i segreti dell'agricoltura e vegliava sulla crescita delle piantagioni e sul raccolto. Veniva tradizionalmente associato a tutte le forme di fertilità. Era anche il dio dei venti, dei fulmini e della pioggia, che si diceva essere causata dalle sue lacrime. Proteggeva le fonti, i pozzi, i ruscelli, i senote e tutte le altre sorgenti d'acqua. In linea con i fenomeni naturali che proteggeva, era ritenuto benevolo e amorevole, ma anche imprevedibile. Fisicamente, Shaka era ritratto come un rettile con i capelli raccolti in ciocche arruffate. I suoi colori erano bianco, rosso, giallo e nero, a rappresentare nord, est, sud e ovest. Grazie a tutti i nostri erano. Grazie a tutti. E ora vediamo di uscire di qui. La canoa divina, che traghetta le anime dei Maya attraverso l'oltretomba, così come in cielo, è guidata da due divinità. L'antico rematore razza siede in coda e ha il compito di pagaiare durante il giorno, mentre l'antico rematore jaguaro si trova in testa all'imbarcazione e si occupa del turno di notte. Questi due dei non simboleggiano solo luce e oscurità, giorno e notte, ma anche il legame indissolubile che esiste tra tutte le forze uguali e contrarie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.